Ma in realtà non mi manca perché a gennaio ci sarà una nuova serie, tanto per non farmi mancare nulla, poi morirò distrutto. No, quello... sai, la televisione... mi sfogo con la televisione, mi piace raccontare il presente con la televisione, faccio fatica a pensare il presente, raccontare il presente con il cinema. Prendi una telecamera e vai, è la cosa più bella, più facile che mi viene, più spontanea da fare. Il cinema è tutto più complesso, quindi comunque ci sarà ancora una nuova serie del testimone.